Acceleriamo sul censimento in agricoltura. Più di un terzo delle aziende agricole del nostro paese ha già risposto al questionario informativo inviato dall'Istat, ma dobbiamo accelerare, dobbiamo farlo in maniera completa anche nella nostra regione dove tutte le aziende agricole hanno già ricevuto il questionario inviato dall'Istat. Moltissime realtà agricole della nostra regione e anche zootecniche non sono di fatto censite. È necessario che la regione Campania emerga non solo dal punto di vista della qualità delle proprie produzioni, ma anche dal punto di vista della dimensione dell'esistenza e della consistenza delle proprie imprese. Quindi se non lo avete fatto rispondete immediatamente al questionario dell'Istat, lo potete fare in qualsiasi modo, via web, rivolgendo ECA o addirittura chiamando al numero verde dell'Istat. Ma acceleriamo sul censimento. Sono Antonella Bianchino, dirigente dell'ufficio territoriale Istat per la Campania e la Basilicata. Siamo arrivati alle ultime battute della raccolta dati del settimo censimento dell'agricoltura. Si è trattato di un'operazione molto importante che ha impegnato oltre l'Istat diversi soggetti. Ministero delle politiche agricole, AGEA, Regioni, Centri di assistenza agricola e ovviamente i condittori delle aziende agricole. Soggetti chiamati ognuno per la propria parte a contribuire alla realizzazione di questo censimento. La rilevazione, che è l'ultima cadenza decennale per il settore agricoltura, si rivolge a tutte le aziende agricole presenti in Italia, circa 1.700.000. Il censimento fornirà un quadro informativo statistico dettagliato e aggiornato dell'agricoltura italiana e rappresenterà quindi uno strumento indispensabile per conoscere il comparto agricolo e zootecnico del nostro Paese, sia a livello nazionale sia a livello locale. Rispondere al censimento, compilare il questionario vuol dire, oltre che adempere a un dovere civico, contribuire alla costruzione di questo quadro sul mondo agricolo, quadro informativo utile ai decisori politici, agli operatori economici, agli studiosi e ai ricercatori. Per facilitare la partecipazione delle aziende agricole al censimento, l'ISTAT ha attivato diversi canali. È possibile infatti compilare il questionario in autonomia sul sito dedicato raccoltadati.istat.it, utilizzando le credenziali riportate nella lettera che le aziende agricole hanno ricevuto e negli eventuali solleciti che l'ISTAT ha inviato. Oppure si può chiamare il numero verde 800-961-985 per la compilazione del questionario o per prenotare la compilazione. Ancora è possibile compilare il questionario per l'intervista presso i centri di assistenza agricola che operano sul territorio. Ancora un sottinsieme di aziende sarà contattato direttamente dall'ISTAT per un'intervista telefonica e in questo caso la chiamata arriverà dal numero 06 452 020 83. Rinnovo perciò l'invito alle aziende che ancora non hanno compilato il questionario a farlo e a farlo subito. Rispondere è un obbligo, partecipare e significatare il nostro contributo per il Paese.